Musica Un cordiale saluto ben trovati a Trentino TV Economia Subito con il primo servizio parliamo di formazione professionale in ambito turistico alberghiero e in particolare di un corso sul cibo che si è tenuto oggi a Levico Terme e ce ne riferisce Gabriele Buselli Sto bene se mi alleno sulla salute, cibo, sano e sport Su questo concetto hanno lavorato gli studenti dell'Istituto di Formazione Professionale Alberghiero di Levico Terme in collaborazione con il Piano Giovani di zona Laghi Valsugana Un progetto per dare sempre maggiori competenze alle figure professionali che un domani ormai prossimo diventeranno effettivi in un settore che non conosce crisi, quello della ristorazione e del turismo L'evento finale sull'educazione alimentare e sport è stato organizzato a Levico con gli allievi e il corpo docente che hanno accompagnato i visitatori tra stand informativi Un percorso che si è articolato in quattro appuntamenti nei quattro comuni che hanno aderito all'iniziativa Levico, Caldonazzo, Tenna e Calceranica Noi puntiamo sicuramente anche con il nostro dirigenza il dottor Federico Samad che ringrazio personalmente in quanto lui ci dà anche l'opportunità di costruire con i nostri ragazzi una sana dieta equilibrata alimentazione anche per il loro benessere e anche perché domani saranno oggetto diciamo di sviluppare la loro professionalità in ambienti diciamo di qualità nel territorio e anche all'estero Lei ha parlato di qualità, qualità della ristorazione che è il punto fermo per il prossimo futuro Sì, logicamente per il momento noi stiamo contribuendo con tante aziende del territorio ma anche aziende all'estero, in Inghilterra, abbiamo anche aziende fuori provincia abbiamo grosse collaborazioni di aziende che puntano anche a una qualità del prodotto logicamente con prodotti semplici, territoriali e con lo sviluppo anche logicamente di una dieta equilibrata e sana C'è una scadenza da rispettare per ripetere esperienze positive come questa? Sì, certo, c'è il 5 dicembre, lunedì 5 dicembre alle ore 12 c'è la scadenza del nuovo bando per l'anno 2017 quindi associazioni, ragazzi, giovani che sono interessati a portare progetti per il prossimo anno come questo sono invitati a contattare il piano giovani Grazie! Grazie!